Ergastolo a Mario Alessi, 30 anni, ad Antonella Conserva. Queste le condanne che ha inflitto la Corte d'Assise di Parma per il rapimento e l'omicidio del piccolo Tommaso Onofri, accogliendo le richieste dell'accusa. La Corte ha deciso per Alessi anche un periodo di isolamento diurno e la decadenza della patria potestà, che invece è stata sospesa fino alla fine della pena per la Conserva. Quest'ultima, una volta uscita di carcere, dovrà scontare anche tre anni di libertà vigilata. Ha deciso inoltre un risarcimento di 300.000 euro per i genitori del piccolo Tommi e di 100.000 euro per gli zii. Alessi aveva ammesso il rapimento, ma fino alla fine ha negato di essere l'autore dell'omicidio, mentre la sua ex compagna Antonella Conserva si è sempre dichiarata estranei ai fatti. Alla pronuncia della sentenza il pubblico ha applaudito. Commossi i genitori di Tommi, presenti in aula, Laura Ferraboschi, legale di Alessi, pensa a ricorrere in appello. Ora, speriamo, in un altro giudice ha detto che per la stessa vicenda era già stato condannato a 20 anni Salvatore Raimondi.